io mi ho viste cose che voi umani non potreste immaginarmi ho visto Giappo Minchia affermare di essere otaku senza saperne il significato e ho visto Giappo Minchia affermare che Death Note sia il manga migliore del mondo migliaia di link di stupidissime pagine otaku sempre con la foto di Konata o di Keion ma cosa sono veramente gli otaku? gli otaku amano talmente una determinata cosa che sia un manga o anime o armi da dedicare la loro vita esclusivamente a questa passione sono persone che stanno chiuse in casa tutto il tempo e non hanno, o comunque pochissima, vita sociale è chiaro? ed ecco come sono invece in Italia le persone che fermano di essere otaku oi Abdul, come stai? no, senti, ti ho chiamato per sapere se oggi volevi uscire così andavo in giro ma che fai? no, io ho appena finito di leggere il numero 56 di Naruto sto manga, ti giuro, insieme a Death Note è il migliore del mondo mamma mia vabbè allora ci vediamo dopo fai meno il baka stai kawaii se il video ti è piaciuto ricorda di mettere mi piace di condividerlo e di iscriverti al canale ci vediamo stai kawaii ciao Grazie a tutti.